Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in questo nuovo video Allora, come avrete visto dalla copertina ho una marea di prodotti da farvi vedere Questo perché? Perché praticamente ho accumulato questi prodotti in una busta dove non mi dava fastidio Quindi ogni volta che finivo un qualcosa portavo i prodotti finiti con la busta Soltanto che mi sono resa conto che questo video non l'ho mai fatto e la busta era strapiena E allora ho detto, vabbè, è ora di fare questo video Allora, direi di cominciare immediatamente perché sono un sacco di prodotti E direi di partire da questa, che è la parte che è tutta sporca Perché è sporca di tinta, perché ci ho fatto varie volte, insomma, l'ho usata per non tingermi la fronte Quando facevo la tinta Guardate amici, sto facendo crescere le ucchie Poi vi faccio un video su come sto facendo perché è un metodo un po' non usuale però funzionante Tra l'altro oggi non so proprio come mettere il microfono Allora, questa qua, se cercate una crema per il corpo Che sia nutriente e vi lascia la pelle sempre, sempre, sempre idratata Questa è perfetta, infatti io penso che la ricomprerò Perché mi piace tanto, è senza profumazioni, quindi molto neutra Però lascia la pelle molto liscia, suave, proprio idratata, bella E la tiene idratata a lungo Quindi questa mi è piaciuta moltissimo Poi Passiamo a questo Questa qua è una maschera dell'ultra dolce della Garnier per i capelli Che io avevo da un sacco di tempo E non ero mai riuscita, diciamo, a finirla Finché non mi sono messa di punta Di prima dello smaltimento dei prodotti E può che dire Si lascia i capelli belli Però non la ricomprerò A parte che Voglio trovare delle maschere Che non siano col barattolo Perché non le sopporto Perché faccio un casino L'odore anche Mi è andata quasi a stufo Perché ce l'ho avuta per talmente tanto tempo Che non mi piace Quindi non la ricomprerò Poi Questo teodorante qua Della TAP Non lo ricomprerò Perché C'è anche ancora Ma Profumo di talco Qua dice 0% alcol Comunque io sono molto strana Con i teodoranti E Boh Questo in particolare Ho sbagliato a comprarlo Perché volevo l'original E questo non è l'original Comunque fa puzzare da morire L'odore è buono Perché comunque La TAP Ha delle buone prumazioni Però Non mi è piaciuta E quindi Visto che fa puzzare un casino Per me è inutilizzabile Poi Sempre per capelli Troviamo questa qua Anzi questo qua Che è un balsamo nutriente Illuminante Dell'antica Erboristeria E questo mi è piaciuto Tanto Perché Un balsamo nutriente Illuminante Ha il profumo di rosa Capelli secchi Vediamo Il profumo Delicatissimo E Niente A me è piaciuto Districava Molto 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 Bene i capelli Lasciava leggeri Morbidi E quindi Magari perché Ne voglio provare Degli altri Però Altrimenti Lo ricomprerei Diciamo E quindi Poi vi faccio vedere Questo Che è un zero Della coda La linea Vino Perfect Io ho anche L'essenza Per il viso E Poi La crema Sempre Della Vino Perfect E io Con questo Costa un po' Perché è un po' Costosello Sono 30 ml Infatti È un po' Cioè nel senso L'ho finito Come vedete Tutto quanto Mi pare c'è come sto anche un po' di acqua Per l'ultimo utilizzo Perché non si spreca nulla Vabbè Comunque Anche questo Vabbè Profumo ottimo Già la pompettina Qua E quindi Ecco io Questo Lo ricomprerò Non ora Perché ho tantissimi Altri prodotti Da finire Però Smacchia Insomma Fa il suo lavoro Agli acidi Del vino Dell'uvo E quindi Questo mi piaceva tanto Tutto il tempo Che l'ho utilizzato In realtà Tutta la linea Anche la crema Proprio Lasciano Un viso Molto luminoso Il giorno dopo E smacchiano Effettivamente Quelle macchie Che Insomma Può causare Il sole Ecco O anche I prufoli Quindi quello Mi è piaciuto Poi Passiamo A questo Che è Sempre dell'anticarboristeria Questo È stato Il mio preferito Per anni Per la Diciamo I capelli grassi La pote grassa Tra mille Ciampi Che utilizzo Questo Non mi ha Diciamo Mai delusa E Ora Solo di recente Ho cambiato Perché mi ricordavo Che ho avuto Una buonissima esperienza Infatti Però Ve ne parlerò meglio Insomma Nei preferiti del mese Perché voglio portare Anche questa tipologia Di video Non so Fatemi sapere Se vi può piacere Perché non l'ho mai fatti Però penso Che possa essere interessante Insomma Vedere i prodotti Che per una persona Sono preferiti Così Vabbè E Nulla A questo punto Shampoo L'ordica Vediamo se metta poco Ok Shampoo All'ordica Ordica 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 Questa ha la profumazione Insomma Un po' particolare Un po' forte Però Non è discosto Se ecco Questo lascia i capelli Su di me O almeno io lo utilizzo Per avere volume Perché le lascia proprio puliti E voluminosi Quindi Questo Quanto è Io lo ricompro Poi siamo A questo Che ho soltanto la scatola Perché poi Il dentifrice L'ho buttato Vabbè E avevo tenuto la scatola Comunque Questo qua È il Colgate Max White Ultra Denti più bianchi In solo tre giorni Questo a fare È poco prodotto E non è un dentifrice normale Perché veramente Spianca tantissimo 50 ml All'utilizzo Si sente anche Una sensazione Di calore Quindi non so Secondo me è un po' forte Io infatti Non l'utilizzavo Sempre Soltanto magari Due volte a settimana Perché veramente Smacchia Guardate È questo qua E costa anche un bel po' Per quello che dico Non è un Dentifrice normale Ma Appunto Un prodotto Che secondo me Va utilizzato Con cautela Comunque Qua ci rassicuro Dicendo che È sicuro Per lo smalto Ad ogni modo Questo io Lo prendo Perché Mi fa comodo Per eseguire Uno spiancamento Chiamolo così O comunque Per tenere il tono Dei denti Abbastanza normale Ecco Ma sicuramente Da Non utilizzare Tutti i giorni Poi Passiamo a questo Sono diciamo Prodotti Perché c'è un mix Ho fatto Skincare Tra capelli Pulizie Insomma così Allora Questo qua È lo Smac bagno E Non lo ricomprirò L'ho comprato Soltanto perché Mi serviva uno Per pulire il bagno E non trovavo il mio Preferito Che è quello Dell'Ajax Bagno Splendendo Una cosa così Comunque Non è malvagio Però Non è il mio Preferito Quindi Non lo ricomprerò Poi Sempre per i capelli Vi mostro Vi mostro Dell'Angelica Che è Ordica E Mirto E questo Anche molto Buono Però Un po' Non mi fa Più effetto E quindi Appunto L'ho Concluso Però Lo ricomprerò Da un po' Ecco Questo Mi piace L'odore Perché Tutti i prodotti Dell'Angelica Io Insomma Ve lo dico Poi Valutate Se vi va Di provarli Anche I prodotti Per il corpo Lasciano Un profumo Addosso Che Resta Veramente Tanto E anche Questo Appunto Per i capelli Non è Una profumazione Fastidiosa Però Potrebbero Piacere A tutti Ok Non ve lo faccio Vedere Bene Poi Passiamo Di nuovo A prodotti Per il viso Ho terminato Questa Che è La crema Protettiva Della SVR 50 Più Allora Questa L'ho terminata Ma Non c'è Tutto Ce l'avevo Da un anno L'ho Diciamo Riutilizzata Perché ancora Non era scaruta Diciamo Mancavano Forse 4 mesi Ecco E l'ho Riutilizzata Nei mesi Di aprile Maggio Così Ve l'avevo Fatta Anche Vedere Però Poi Ecco Non l'ho Più Utilizzata Comunque Mi piace Cioè Questa Mi piace Lascia La pelle Molto Diciamo Seduose Proprio Una Sua Caratteristica Però Non la ricomprirò Perché Adesso voglio Prendere Quelle Coreane Quindi Basta Questa è Diciamo La farmacia Perché Tanto Non ho ancora Trovato Quella Perfetta La farmacia So che Ce n'è Una Molto Buona Della Rousse Se Però Però A questo Punto Insomma Basta Esperimenti Varo Sul Sicuro Comunque Questa Ve la Consiglio Io Non la Ricomprirò Perché Concerco Un altro Tipo Di Effetto Ma Se Non vi Truccate E volete Una buona Protezione Solare Questa È Veramente Buona San Sicuro E Si può Dare In realtà Anche Sotto Il Trucco Poi Sempre Stesso Dottorante Che C'è Non l'ho Terminato Nemmeno Mia sorella Diciamo Funzione Quindi Lo buttiamo Perché Sì Perché Tanto Non Potremmo Farne Un Utilizio Ecco E Appunto Come vi Dissi In un video Io Per Trovare I Dottoranti Migliori Comunque Il Metodo Giusto Per O Comunque Il Metodo Migliore Per Restare Con Dottoranti Io vi giuro Che con Dottimia Non Puzzo Però Ci sono Dottoranti Che Fanno Puzzare Un Sacco Cioè Un odore Che Magari Tu Non Avresti Quindi Questo Fa parte Di Quelli E Quindi Non Lo Recomprerò Ecco Poi Questi Non So Perché Ce li Amessi Comunque Ho Finito I Cotton Fioc Ma Non Mi So Fermo Poi Questo Ace Per Il Bagno Profumata A me Questa Non Mi È Piaciuto Ecco Ha Il Multijet Quello Che Vuoi Però L'odore Guarda Nemmeno Lo Voglio Aprire Perché Non Mi Piace E Nuovo Non Lo Ricomprerò Non Cioè Il Bagno Lo Pulisce Sì Vabbè Per Carità Ma Come Un Altro Quindi Non Lo Ricomprerò Sempre Per Le Pulizie Questo Ottimo Lo Ricomprerei Mille Volte Solo Che Da dove Sono Andata Non Si Trova È Un Po Caro Ma Vale Tutti I Suoi Soldi Allora Qua Ci Dice Che Mangia Polvere Igenizzante Per Questo Tipo Di Prodotti Io L'ho Utilizzato Come Un Qualtesi Mangia Polvere E Praticamente Fa Un Effetto Antistatico E Io Vi Giuro Che Poi Dove Voglio Insomma C'è La Strada Bianca Entra Molta Molta Polvere Quando Utilizzavo Questo Restava Veramente Tanti Giorni Cioè Poi Sfatiamo Questa Cosa Cioè Non sono Molata Le Pulizie Su TikTok Vedo Si Fanno La Querla Per Chi Pulisce Come Pulisce Vabbè Io pulisco Quando È Necessa Mi piace Stare Ordinata Però Non sono Molata I Pulizi Quindi Non è che Passo Le polveri Tutti I giorni Ma Quando Ce N'è Bisogno E Con Questo Vi Dico Che Nemmeno Vi Ricordavo Di Doverle Passare Perché Non si Attaccava Niente Quindi Se volete Provarlo Provatelo Io l'ho utilizzato Su tutte le superfici Anche Questo Da me Costa Quasi 4 euro Però Ne vale La pena E poi Dura Tanto Quindi Ah E soprattutto Ha un odore Fantastico Veramente Buonissimo Vediamo Non si sente Più Comunque Molto Molto Buono Approvato Poi Mia figlia Ha terminato Questo Ultra dolce Bambini Questa è della sirenetta Qua Non è sapone Ma L'acqua Insomma Rimassugli Perché io Quando finisco qualcosa Poi ci metto l'acqua E faccio l'ultimo Redilizzo Vabbè E Questo qua Mi piace tanto Questa sarà la terza volta Che diciamo Io lo ricompro Adesso Io ho preso Il 2 in 1 Di Elsa Sempre della Carnier Comunque Questo anche È alla cilicia Ha un profumo Proprio Di cilicia Buonissimo Non direvo Che una volta O forse due L'ho utilizzata anche io Capelli super profumati Ma Mi hanno detto Delle farmaciste Che non si dovrebbero Lavare i capelli Con questi Belli bambini Non lo so Comunque Io quando utilizzo Quelli di mia figlia Ho sempre un bellissimo risultato Non so perché Quindi E appunto È della tirnetta Poi ho terminato E ne ho altri due In doccia Questo per farvi capire Quanto mi è piaciuto Questo qua Di Conat Che è lo shampoo Purificante Io ho di questo Shampoo Che ne ho parlato E niente Mi piace Molto neutro Lascia i capelli puliti Quindi Ma il suo dovere Costa pochissimo Sono 250 ml Quindi Top E qua ci dice appunto I dati per capelli grassi O tendenti Al grasso Quindi Per il prezzo che ha Se avete il problema Di avere Diciamo La cote grassa Provatelo E fatemi sapere Insomma Cosa ne pensate Comunque Io Mi ci trovo bene Ecco Rispetto a Cioè Preferisco prendere questo Rispetto ad andare a spendere Tanti soldi Però ma c'è proprio Che fanno lo stesso effetto Ecco Questo è Quindi Non miracoloso Ma nemmeno da buttare Per cui Mi piace Poi Abbiamo Abbiamo Questo Che è il balsamo Della splendor E io Questo lo utilizzo Da Interamente Tanti anni Quindi lo prendo Lo riprendo In questo caso Ho preso La Versione Alla mantorla Che non mi è piaciuta Infatti ancora Ce n'è dentro Però Non lo sopportavo più E Queste fiori di mantorla Carité Si lascia Un Bell'effetto Comunque Districante Morbido Quello che muovi Però Raga Puzza Cioè È un odore Forte A me non piace Non so Descriverlo So solo Che Non lo Ricomprerò Quello Al cocco È decisamente Meglio Forse Questo Districa Un po' Di più Però A che prezzo Quindi No Non lo Ricompro Poi Mia figlia Ha Terminato Questo C'è un burro cacao Ti ha perso pure il tappo E niente È un burro cacao Che lei utilizzava Ma in realtà Non è proprio finito Però lo butto Perché abbiamo perso il tappo E quindi Vabbè Ok È appunto così Rosa Poi Questa maschera Che anche questa L'ho avuta per un sacco Di tempo L'ho presa Su un odino E Perché Io fatico a finire le maschere Ok È un problema Io non le utilizzo sempre Per cui Trovo a dover finire Diciamo I prodotti A stufo Proprio Finché non Ne posso più Ogni volta Le faccio Diciamo la doccia Solo che Questo mi è piaciuto Veramente E Però Non so Perché L'ho tenuto Per così tanto tempo Però Ogni volta Che l'ho utilizzato Mi è sempre piaciuto Perché lascia un effetto Proprio sedoso Super Iper districante E Quindi ecco Però Non credo che lo ricomprerò Ecco O comunque A meno che io non debba fare Un ordine su un odino Ma cioè Non farò un ordine Solo per questo Potevo finirlo Molto prima Però Come vi ho detto Il problema è mio Che non mi faccio sempre Diciamo questi trattamenti Perché non ho voglia Di stare dieci minuti Nosa Come un fermo Ad aspettare Che questa cosa Faccia effetto Quindi non è mia abitudine Fare le maschere I capelli Al massimo Qualche impacco Prima Però la maschera Sottra Non la sopporto Comunque Vero consiglio Lo ricomprerei Però Ci rivezzo L'occasione Ecco Poi Sempre mia figlia Ha terminato Questo Due in uno Vabbè Gel da bagno Di Elsa Che è vero di capare Perché Ho stestionato Da Elsa Spero Le passi Perché ho tutto Locato Elsa E Basta Basta C'è Elsa Ciò finacqua Comunque Vabbè Non lo ricomprerò Perché non mi piace Perché Cioè È un prodotto Secondo me Di scarsa qualità Messo in questo Flacone Che a dire bambini Basta Ho vaticato assai Per finirlo Sono 475 ml Quindi insomma Tanto prodotto E non lo ricomprerò Perché non mi è piaciuto Poi Passiamo A questo Che invece Mi è piaciuto Tanto Questo Vabbè Sera Johnson È un shampoo Per capelli Antilacrime Io dico Questo Anche lo spruzzino Che sarebbe Il balsamo Post Pagno Quindi Senza risciacqua Di questo Mi piace Il profumo Molto Molto Mi piace E Poi Come lascia i capelli Questo l'ho utilizzato Anche io Insomma Qua ci dice Capelli Da principessa E posso Confermare Nonostante Sembro L'organizzare Ecco Vabbè No vabbè E Nulla Niente da dire Questo Mi è piaciuto Lo ricomprerò Però Devo finire Con l'ielsa Sì Quando ho cominciato Questa cosa Di smaltire Questi prodotti Mi sono risa Quanto caveva Una mare Ai prodotti Non dico Che è stato difficile Smetterli Comprere i prodotti Non ho smesso Al 100% Perché ogni tanto Cado in tentazione Dico Ma costa poco Ma mi piace Ma mi serve Però mi sto curando Riempendo i carrelli Su Non lo so Siti Trucchi Cose E poi non acquisto Quindi Una brutta situazione Sto aspettando Appunto Di finire tutto Per Rimulare un po' Di soldi Per poter passare A una skin care Completamente coreana Quindi ecco Sto smaltendo tutto Poi Passiamo A questo Che è il più recente E è molto pesante Ancora Perché arrivati A un certo punto Il prodotto Non esce più Ma va bene Questo allora Mi è piaciuto Molto delicato Non lo ricomprerò Però Carino Questo Se siete interessati È Vegano Quindi È una cosa in più Pazzamoliciante Senza silicone Rimpolpe In profondità 72 ore Cappelli lisci Lucenti Infuso di acqua Infuso di acqua Di riso E di mais Vediamo Che caffo amici Ve lo metterò su Su un Come si chiamano Su uno shorts Vabbè Su uno di quei video Piccoli Tipo real Sono andata Per sentire La profumazione Mi ha schizzata In faccia Sulla bocca Comunque Vabbè Alla fine La profumazione L'ho sentita Non lo ricomprerei Però comunque È vero Lascia i capelli morbidi Ma Voglio di più Quindi Troverò qualcosa di meglio Ah Ho finito questo Vabbè Lo ho già ricomprato Volevo fatto vedere Solo vuoto a spesa Già vi ho spiegato Cosa sono Se non li utilizzate Ragazzi Utilizzateli Perché Vi svolgono L'igiene Orale Dentale Come si dice Non lo so Comunque Topperia Io questi li amo Non posso stare senza Bene Li ricomprerò All'infinito A meno che Non vengo Catturata Da Perché Poi quando guardo Su Amazon Guardo queste cose Diciamo Importanti Guarda le cavolate E quindi Non le ho mai comprate Ma su Amazon Mi hanno detto Aia Mi si è Cosato un piede Comunque Mi hanno detto Che ce ne stanno Molti di più Che costano di meno Quindi Vedrò se li trovo Allora Dopo Quasi Mezz'ora Di video Siamo arrivati Agli ultimi due prodotti Allora Questo Questo è infinito Questo coso Indemoniato Ragazzi Cioè Mi perseguita Non so Da quanti mesi Che ho questo A fare E non è l'unico Perché Era una confezione Risparmio famiglia Vi dico solo questo Ne finivo uno Lo riaprivo Questo è l'ultimo Superstite Spero E non ho più guardato Sotto il mobiletto Del bagno Spero Di che sia l'ultimo Perché Non ne posso più È un Un prodotto Inutile Secondo me Già Non mi piace Ok Non sono pretenziosa Ma questo Proprio acqua fresca No Non mi piace E non mi soffermo Non ti ricoprerò mai Anche se proprio Me lo stai ricadando Poi Passiamo A questa Che Questa appunto Io l'avevo terminata Dai L'avevo terminata E poi L'ho ricomprata Nuovamente Perché Perché mi segue Questa braga Mi sono fatta Una bella scottatura Sulla chiappetta Quindi Si sul sedere Che mi sono seduta Sulla piastra A 240 gradi Si Sono io E quindi Niente Questa l'avevo comprata Per il viso E mi piaceva tantissimo Poi Il caso Il karma Soprattutto Ha voluto Che accadesse Questo spiacevole evento E quindi Ho utilizzato Anche questa Però Ho sbagliato Cioè Questa Io l'ho usata Tipo Cicaverta E Comunque Andavo utilizzata Diversamente Però vabbè Quindi Io ne ho un'altra La utilizzo sempre Prima del viso Soprattutto Se mi capita di stare Sotto al sole Quindi Non lo so A me piace Poi vabbè Non per forza Deve essere usata Solo sulle cicatrici Perché È una crema Talmente neutra Che onestamente A me Mi ha Lenito Diciamo Tutte le Le cicatrici Rosse Che avevo sul viso Io l'ho utilizzata Principalmente Per questo Poi vabbè Sono un po' Truccata Però Mi vedete spesso Struccata E c'è una netta differenza Tra i video di prima Della mia pelle Ad oggi Quindi Fatta Finalmente Posso buttare Tutto E nulla Io Spero che questo video Vi sia piaciuto Un po' lunghetto Fatemi sapere Se preferite Dei video un po' più corti O un po' più lunghi Io personalmente Li preferisco Medi Quindi Della lunghezza Che io li faccio Se sono troppo lunghi Non ci sto dietro Perché poi Troppo lunghi Se sono troppo corti Non mi dà il tempo E quindi Questa lunghezza Diciamo Che predilico Anche se oggi Forse ho sforato Di 3-4 minuti Comunque vabbè Io spero Ovviamente Che questo video Vi sia piaciuto E basta Non devo dirvi Nient'altro Anche perché Adesso sto per girare Anche un altro video E nulla Questo voleva essere Appunto Un video Di consigli Perché a me piacciono Molto Questo genere Di video Perché Magari mi incuriosisco Rispetto a dei prodotti E quando vado a fare La spesa Come magari Li provo Quindi mi piace Guardarli E ho pensato Di farlo È la prima volta Che lo faccio E quindi nulla Spero che questa Idea Questo format Vi piaccia E basta Vi mando Tu come sempre Un bacione Enorme Vi ringrazio Fatemi sapere Se c'è qualche prodotto Che vi è incuriosito Che comunque Proverete E nulla Ci vediamo Nel prossimo video Grazie a tutti